Carnevale di Vercelli al Via, venerdì 5 gennaio alle Acace in Corso Rigola, si svolta la veglia di presentazione di Bicciolano e Bellamain. Le maschere vercellesi saranno Leandro Falletti che prende il posto di Enrico Rampazzo e Sharon Basiri Corri, confermate per il secondo anno consecutivo. Alla veglia erano presenti quasi tutte le mascole re dei rioni cittadini e del Vercellese. A fare gli onori di casa il Presidente del Comitato Manifestazioni Vercellesi Stefano Roncaglia. Presenti anche in rappresentanza dell'amministrazione comunale il Vice Sindaco Massimo Simeon, gli Assessori Caterina Politi e Domenico Sabatino, il Vice Presidente del Consiglio Comunale Gianni Marino, il Consigliere Comunale Martina Locca. Con loro anche il Presidente della provincia di Vercelli Davide Gilardino. Buonasera a tutti, grazie per essere qui alle cacce questa sera per l'incoronazione della Bellamain come tradizione vercellese, il 5 gennaio, prima dell'Epifania. Siamo tutti qui numerosi per l'inizio di questo carnevale. L'apertura di questo perché sarà un carnevale molto corto, però molto molto intenso perché abbiamo ripreso quasi tutte le nostre visite del Benefico. Ci sarà un nuovo percorso perché Via Le Garibaldi sarà chiuso e quindi tante tante novità per quest'anno. Maschere vercellesi che ieri sabato 6 gennaio hanno partecipato alla festa della Befana in piazza Cavour, all'apertura ufficiale del Carnevale Storico di Santià, alla veglia di presentazione delle maschere di Borgo Vercelli. Oggi invece Biciolano e Bellamain hanno presenziato gli eventi carnevaleschi di Asiliano.